Mesdames et Messieurs, je suis Eres, devo dire che ici, il y a en Arezzo, le boulevard! Mi sembra rivedere questa inaugurazione, questo meraviglioso tripudio di pubblico di gente per questo lavoro stupendo! Stupendo perché, non guardate qui, insomma, ora l'asfalto è un po' de mer, come una di Anne-France, l'asfalto de mer. Ma le boulevard! E le mer de le mer se tombè dalla mer, sapete cos'è? È un giro di parole, è un detto che Francesco vuol dire la madre del sindaco è caduta nel mare, quindi la mer, la madre de le mer, il sindaco, quindi con le boulevard anche noi abbiamo le mer che ha fatto il lavoro a un po' de mer, ma c'è da mare, perché boulevard è da mare, non capite male! Scusi signore, signore, la porsche, scusi, scusi, lei sta viaggiando nel boulevard, con la porsche, anche lei è nel boulevard, le boulevard, signora, guarda contenta, va a capire i boulevard, si rende conto della bellezza? Lei pensava che Arezzo s'avesse i viotteli! Eh, hanno fatto bello! Lei di dov'è? Di Arezzo, qua sto qui a Arezzo, ma sono di giù di Avellino! Di Avellino! Quindi lei è felice questo? Eh, questo biazzale che hanno fatto bene, sì sì, bene, io abito qui! Belle le luci! Lei, insomma, si è tutta ghindata a boulevard, bisognerebbe però parlare un po' in francese, allora io approfitto di lei! Io non so parlare in francese! Va beh, ci dica au revoir sulle boulevard! Au revoir! Au revoir! Su le va! Su le va! Su le va! Che! No, chi c'è di chè? Eh? Chi c'è? Una cosa invece in Avellinese? Avellinese, vieni qua, vai lì! A Dubai! A Dubai, dove dovrebbe andare chi la progettava? Stai zitto, dicono noi, parte nostra, è vero! Tante cose, signora! Grazie, grazie! Arrivederci, arrivederci! Sentissi se le boulevard, l'amour, tra le gens, le perso e Arezzo... E qui ci sono, uno dei personaggi di Arezzo, un personaggio nazionale, un grande avvocato, che si trova sui boulevard! Sembra che sia la Parigi! Però col tubolare non è adatta questa! L'asfalto è un po' balordo! È abbastanza! Eh, cosa ne peggio? C'è chi si lamenta della mancanza delle piante! No, è bello! Le marciapiede! È bello così, è essenziale, ecco! È essenziale! Perché dopo la pianta implica la pisciata dei cani, qualche caccata, insomma! Allora è meglio tenersi il bello marciapiede! Perché già per le caccate ci sono i piccioni, capito? Basta e ne avanzano! Insomma, bene, positivo, contento! Sì! Ci sa di abituarsi un pochino, perché a questo francesismo... Eh, bisogna anche parlare in francese, eh! Sì, sì! Lei parla un po' francese? Un po' vuol dire un po' un po' Un petit peu! Au revoir! Ci saluti, au revoir! Mentre va via in bici, rischiando la vita! Au revoir! Lei cammina distrettamente! Ma sta camminando sul nuovo boulevard di Arezzo! E' be! Eh, come è be! Cioè, questo era Parigi e basta, ora ci sa anche noi, eh! Ah, certo! Lei di dov'è? Io sono di Napoli Di Napoli? Sì! E cioè, a Napoli ce l'avete le cose così? Certo che ce l'abbiamo! Sì, ci avete! una sega a Napoli. Ci abbiamo a Napoli, certo, in questo è stato qui però ci stanno. Lei però con l'orologio d'oro a Napoli ci passeggiava? No, questo non è d'oro. È finto? Sì, sì. Il classico a Napoli. L'orologio è buono però non è d'oro. Ah, ho capito. Sì, sì. È buono. No, se no dicevo questa a Napoli col cavolo che ci viaggiava. Sì, sì, no, appena ci va a Napoli. Guardi, ma è una diceria i fatti di Napoli. Napoli è in tutte le chiacchiere, ma a parte la delinquenza minorile che straripa, però poi ci stanno persone per bene. È chiaro, io sono fratelle, sorelle, amici. Io sto qui da 25 anni, ma sono napoletano e ogni volta che vado a Napoli rinasco. Si rende conto che la prossima settimana qui vengono inaugurati i boulevard? Sì, sì. Ma voglio dire... Cosa sappiamo? Certo, certo. Voglio dire, belli, no? Sì, direi che sì. Perché lì ci viene le piante. Me lo sono immaginato. Qui ci viene i mendicanti. Me lo sono immaginato. Qui le cacche di piccioni. Ora ci andiamo a portarci tutto, ma stanno all'esterno. Ma io speriamo di no. Speriamo di no. Speriamo che invece venga una cosa carina. Come disse quello che faceva manifesti ai poster, l'arrua sentenza. Eh sì, sempre così. Secondo me siamo critici sempre all'inizio, poi le cose a volte vanno bene, a volte vanno anche male. Ci sa vita, ci sa vita. A volte vanno anche male, ma a volte vanno anche bene. Grazie, buona giornata. È come la sodomizzazione. Brucia la prima volta. Dopo, anzi, c'è qualcuno che gli dà gusto.